Spari alla prof in classe, preside, cos'è successo? Come si può cercare di rieducare questi ragazzi che hanno compiuto questo brutto brutto fatto? Beh certo, questo dimostra che il nostro intervento formativo non è stato efficace fino a questo momento, quindi stiamo parlando di una classe che è appena entrata nel secondo ciclo di istruzione, stiamo parlando di una scuola tecnologica che quindi ha come must l'uso e la formazione sull'uso corretto delle tecnologie e siamo ai primi passi. Evidentemente non abbiamo insegnato o formato i ragazzi nella valutazione delle reazioni, degli esiti alle loro azioni, ai loro comportamenti ed evidentemente c'è una sottovalutazione molto importante del rispetto, del senso etico naturalmente, ma del rispetto dell'adulto, del rispetto del pubblico ufficiale, del rispetto dell'educatore e quindi questo ci pone l'obbligo che prendiamo e assumiamo pienamente di formarli, di educarli, quindi la sanzione che noi stiamo dando sia in generale alla classe ma anche agli autori diversi che hanno contribuito a questo evento e sarà una sanzione di tipo, certo sono sanzioni disciplinari ma che tenderanno alla rieducazione, quindi obbligo di frequenza e formuleremo un piano individualizzato di formazione attraverso anche la Polizia di Stato che ci ha dato una mano, attraverso la psicologa d'istituto, attraverso i docenti che prepareranno delle lezioni appositamente per parlare della cosa e poi naturalmente se ne dovrà parlare anche in tutta la scuola e ci sarà anche un contributo dei ragazzi più grandi nei confronti di questi più piccoli appena entrati nella scuola. Non vorrei che fosse anche un'azione che voglia dimostrare per chi, sapete quando si arriva le famose spine, chi arriva in un nuovo ambiente che vuol dimostrare una certa, per così dire, un certo coraggio. Bisogna far capire ai ragazzi che invece questo non è assolutamente dimostrazione né di coraggio né di determinazione, ma assolutamente sono azioni sbagliate, proprio non corrette. Confidiamo, anche perché conosco la bontà sia dei nostri insegnanti, dei nostri docenti, delle persone che lavorano nella scuola e quindi sono convinta che piano piano, lentamente si riuscirà a raggiungere l'obiettivo che ci poniamo. Naturalmente anche la società civile ci deve aiutare, ci devono aiutare i media, i giornalisti, ci devono aiutare a creare questo sapere critico, questa capacità dei ragazzi di discernere e quindi di usare della loro libertà e della loro autonomia in modo corretto. Ecco questo. Erano già successi episodi del genere in questo istituto? A mia memoria, fatti fatti di così, di gravità, no, anzi, ci sono state questioni in cui i genitori addirittura si erano lamentati di filmati che i compagni facevano nei confronti, quindi quando nelle chat di classe e così via. Ecco, i ragazzi devono capire che quando un video è postato, è dato a un pinco pallino qualsiasi, questo video poi può essere utilizzato malamente. Quindi non oso neanche pensare che ci sia stata proprio la malafede del voler lanciare un messaggio a tutto, all'universo mondo. Però di fatto questo poi è quello che succede, quindi questo ci pone anche il problema di verificare chi controlla o come sia possibile, non per controllare la rete, controllare le azioni, però obiettivamente certi disvalori andrebbero un po' derubricati, cioè andrebbero trattati in una maniera un attimo diversa, anche perché qui può essere che nel tempo le vittime sono anche i ragazzi e i ragazzi stessi, perché è vero che tutto questo clamore mediatico da un certo punto di vista certo li farà riflettere per il futuro, ma può anche creare un disagio e di sicuro creerà anche un disagio negli studenti, di sicuro. Grazie Preside. Grazie a voi.